il cervellone il quit game numero uno in italia siamo pronti per giocare anche questa sera 4 match per mettersi alla prova per essere come quando si guarda un quit in previsione in palio ci sono un sacco di regali anche questa settimana tante domande 12 per ogni match ma anche delle sigle musicali come il music box oppure la corsa dei galassi ogni squadra ha questa borsantiera per rispondere alle domande basterà cliccare il numero corrispondente alla risposta esalta questa è una borsantiera magica wireless che vi fa vivere un vero e proprio quit game dal vivo che fu lo studioso che nel 1764 criticò la pena di morte e la tortura peccaria, goldoni, perri o alfieri? anche questa è una domanda mai ridita la risposta esatta è corsa di peccaria 11 noi hanno detto 1 maledetto bene 4 si sono castelluti la risposta è Nella corsa dei cavalli bisogna urlare all'interno della pulsantiera, fammi vedere la pulsantiera. E il gusto forno quando vedi urlare più che potete. Adizioni 5, 4, 3, 2, 1, Merida! 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 3, 2, 1, Merida! Dai! Dai cazzo! Proibito! Di cima? Proibito! 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 Mi trovo in compagnia di una squadra che ha appena vinto, sono i Country Boys. Com'è andata? Vi siete divertiti? Assolutamente! Molto! Molto! Molto divertente! Un ritmo molto serrato! Per una sera siete stati voi i protagonisti di un quiz come in TV! Esattamente! Ma poi è preso benissimo, infatti è vestito anche bene per questa sera! Si è vestito di tutto punto per venire! Un buon concorrente! Assolutamente! Quindi è vero che abbiamo anche due generazioni che giocano e padre e figlio vanno d'accordo al cervellone! Solo al cervellone! Due ragazze che vengono ogni martedì, ma da diverse settimane tra l'altro, a giocare! Sì, dopo due mesi! Domanda! Che cos'è che vi piace un tanto di una serata come questa? Che è un'alternativa al DJ, al latino americano, al piano bar, al karaoke? Un po' metterci alla prova per la cultura generale che abbiamo e poi ridere! Stiamo insieme in un modo diverso, no? Siamo abituati ad uscire, ad andare in discoteca, a bere, a fare qualcosa per noi! Questa cosa ci mette insieme in una maniera differente, sicuramente è simpatico! E poi è bello perché dopo la Satele martedì ne parliamo anche un'altra settimana per le sicure che facciamo! Facciamo bellone! Mi trovo con i marsigliesi, salutati ragazzi! Ciao! Ti stai divertito Fulvio? Alla grande, sempre! Cos'è che ti piace di venire a giocare al cervellone? Il fatto di sapere le risposte molto spesso, oppure imparare qualcosa di meno ogni volta! È una sfida con te stesso o con loro? Tra tutti noi! Ok, ok!